Dico tutto. Super Freestyle. Vabbè faccio io, vai a camera di mio figlio che dice a mia moglie che c'è una macchia. Diego. Diego è quello giusto. Grazie Rieswab. SK 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 E beh avete continuato la radio? Allora abbiamo continuato la radio e abbiamo montato la musica. Abbiamo montato più musica e adesso praticamente si parla un'ora. Anche lo sai che ora hanno fatto questo problema, c'è un problema di Twitch che non puoi mettere... Ma sempre tutti i giorni? Sì, ma non va via. Guarda di Asens. Vabbè Marchettone. Grazie a parte, vabbè però ci sta. Vabbè voi che mi dite? Noi siamo tutti strani. Che stiamo facendo della nostra vita? Ti ammorate su Twitch. Diego sta entrando come ospite però è molto amato perché ogni giorno si rimorchia una tipa, fa casini, si litiga con quelli che gli dicono sembri Ketama. Ma per quale motivo? Grazie Luigi. Ragazzi bellissimo. Perché? Per i capelli lunghi. Per i capelli lunghi sembri Ketama. Beh diciamo che tu sei un po' più bella di Ketama. No, c'è Tamanetti. Però c'è sempre... Sempre. Sempre. Sì, c'è sempre Ketama. Sei la versione bella di Ketama. Poi la prima volta... Però c'è uno che... Ma ti offendi se ti dico che Ketama? Ketama ti doi schiaffi e mi portendo. Però mi offendi. Eh. Poi posso fare così, quella è legibile. Credo che sia una finestra su una finestra. Ho visto una puntata di te su Twitch. Grazie Gaberol. E a un certo punto invitati tutti su... Su un'altra piattaforma che non mi ricordo più. TG Facina che star notisce, facina nauseata, facina che star notisce, facina nauseata, facina che star notisce. Un coltello. Un coltello. Ma è tutto? No, ma è tutto il bagno. Ma sta a base copiata di bimbi, ma sta a base copiata di bimbi, ma sta a base copiata di bimbi. Mi sa che avevo un taglietto che ogni tanto... E si riapre. No, ma era figa la roba. Perché lui parlava del fatto che... Bisogna provare cose nuove. Però un coltello... Ma il coltello mi sembra un po' aggressivo. Un coltello nel culo mi sembra un po' eccessivo. No, ma tipo fanno... Se non dire il polo del giudizio. Ma c'è una scala, credo. Tu sai che c'era un mio amico di Roma che abitava nella residenza italiana di Putin e aveva... Scusa, perché abitava nella residenza? C'era casa di un altro. No, aveva la casa... Era ricco. Scusa, è il marico? E aveva i terrazzi che davano sul salone. Ma senza lubrificante? Con il suo portale? Altissimo. E aveva sopra la... È simile a quello. Però sopra la casa era l'heliporto. Ok. E la piscina. Ok. E mi capitava nella residenza di Putin, non mi compriamo di classe. La residenza dove? Italiana di Putin. Ma è da Milano? A Roma. E aveva l'heliporto in casa. Ma io ho avuto la casa di Gigi D'Alessio. E all'heliporto. Sì, a un'heliporto, una città. Per far afferrare l'heliporto. Anch'io ce l'ho. E Annarella ce l'ho? Delicatissimo. Oggi talmente... Annarella ce l'ho? Sì, sì. Mi piace? Sono ancora fidanzati? Sposati? Annata Tangelo? Che figa. Ma lo sai che è del... Ma quanti anni ha Annata Tangelo? 89. Sembra molto più giovane. È dell'89. Veramente. Sembra che ha 43 anni. Sembra una 43 anni che si tiene di giovane. No, raccomando. Sembra la 463 di giovane. Sembra un giovane. Penso po'. Io dico a mia, droppo questa piccola bomba, secondo me, la donna perfetta dello show business televisivo italiano, a mani basta, è Michelle Unziker. A bellezza. In quei momenti lì, a Brangiolini. Beh. Vabbè. Ci siamo fatti tutti una sega guardando nella Rai. Benila Home 2020. La Rai. Ma noi eravamo piccolini, eh. Ammigliorati tutti, eh. Sì, infatti. Ma hai visto 1992 quando spiegano come è stato fatto nella Rai? Non è peggio di come la Rai. No. E come è stato fatto? Non è peggio di come la Rai. Io invece posso dire a mia. Fedez, 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 Fedez. Chi è? Mi rallevo. La mia nera. 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 Basta, hai rotto il caso. È la più bella. Non schermarmi. Sono serio. Sono serdo ma abito lontano da Alguero. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Grazie, Polson. Ah, noi abbiamo un problema di questa braccia. Bello, voglio vedere. Ma quello è originale? Non credo di sì. Di coasci... Di coso? Coasci... Come cazzo si chiama? Eh, lui lo seguo su Facebook. Ma lui le posta su... Questa è... Mi piaceva a me. Eh, va bene. No, 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 no. Ma ci vuoi far vedere la vista? Possiamo uscire... Ah, no, ecco, grazie Antonio. È solo perché ho dovuto mettere... Per mio figlio ho messo le... Le paratie? Sì. E quindi non vedi un cazzo. Ma per non farti spiare o per paura che si sporgessero? Un po' per privacy e un po' per evitare che... Ok, era basse. Ah, no, sì, se si impiega in un buco è pericoloso. Mia madre... Grazie. Sì, sai che una volta stavo... Stavo sul bordo della finestra di casa mia a gattonare. Avevo tre anni, me l'ha detto mia madre. e mi ha detto ah io stavo in bagno e so che ti ha odio mi ha detto ti ha salvato Santa Rita Federico facci vedere le scarpe da 20.000 euro che porti ai piedi vodka premium se poi riusciamo a fare se mi voglio vai voi i drink c'è la vodka si quando bevo bene guarda qua i soldi fanno anche tutti le sere allora la domanda è quanti soldi hai fatto non si può dire la fortuna posso comprarmi una piatta più dei rapper che i trapper che fanno i dischi d'oro ma scade la vodka? no si dipende se l'avete bevuta dalla bottiglia o dai bicchieri che cazzo è? una bottiglia tipo di 5 anni fa ah ok no non scade che penso che impecchia bene la vodka è come l'uva tra l'altro è delicatissimo è come l'uva no non ho fatto 70k grazie ados però si secondo me è stato un bel upgrade perché prima facevamo dalle mille 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 e due persone adesso sei più dieci? no meno si vabbè ma no ma perché sono siamo in vacanza gin molto volentieri questo è il benacus benissimo buono si si drumox dice che è buono per cui dov'è drumox? drumox è tipo black mirror non può grazie a caso non può comparire è una sagoma nera non è nient'altro e poi lì si è uscita pure la spalla a drumox ho visto anche una storia di lui che c'era tipo una fascia per il drumox si volevo fargli un regalo a drumox di fargli un giubbotto lui ha un giubbotto dalle medie volevo farglielo esattamente uguale le teorie che mi diceva erano incredibili ha delle teorie sui ma è venuto dovresti invitarlo a RDS Next così sei l'unico che lo può intervistare cioè capito viene intervistato e esplode perché non può essere visto su internet di nuovo perché lui non è che fa i video non è uno youtuber cioè lui compariva nelle stream e streammava però se li inviti per un'intervista impazzisce tutto il web quando volete raga? devi chiederlo a lui sei bristo manager posso dirti mi muovo bene ti muovi bene infatti come va con la tua la tua agenzia i tuoi talent come stanno? voglio creare la mia agenzia oh bravo mentre lo settembre bravo perché almeno guadagno su chi faccia diventare famoso che entra nelle live invece di farlo gratis invece di farlo gratis per amicizia tipo Diego gli faccio fare il canale e mi prendo l'80% ma prendi il 90% adesso è troppo buono canale di twitch? no io sono le 2 e le 5 e le 3 basta? grazie Mirko grazie Mirko va bene comunque Anca mi dice ogni volta voglio parlare con Federico di un giorno in pretura ragazzi sono tutte le puntate mi muovo hai fatto due bicchieri con il ghiaccio se vuoi io bevo con bevo nel tuo se vuoi aspetta che aspetta no ci faccio un vero che fumo ma ti vai in vacanza? noi andiamo in Sardegna vanno tutti in Sardegna tutti mi invitano in Sardegna quindi mi sa che andrò in Sardegna cioè ragazzi non lo so come Sardegna esploderà ad agosto ma ci sono le Sarde non so se loro mi mandano via che ho risposto? ma voglio venire a trovarti non voglio rischiare di farmi il viaggio lungo per nulla dove e quando ti posso trovare con rispondimi per piacere e legge con le pause Paolo si si Paolo ci vediamo ci vediamo ci vediamo cioè ne riparliamo quando arrivo in Sardegna quando vai in Sardegna? andiamo mercoledì e state fino? ciao mi sono io siete dal futuro un donatore che non mi ricordo il nome mi consiglio un'app randonautica ripeto randonautica appunto è un'app che mi crea sulla mappa in modo randomico dei punti misteriosi e signori per me andare in vacanza vedo fare più vacanze possibile fino a settembre io ho visto perché? perché poi mi ritorno a stare in casa badabam badabam perché continui a streammare in vacanza sì mi vorrei fare una settimanella è però stiamo magari due tre ore panetti facci una capriola in memoria dei vecchi tempi capriola 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 ciao ragazzi tutto bene? 9 volevo chiedere all'ospettabile Federico Lucia se ha comprato qualcosa della collab tra Dior e Jordan buona serata ragazzi 9 9 Nikita 19 29 39 poi un'altra 9 io prendo il outfit con Nazca basta Diego Caterbetti a Cannazca è un rapper classe 97 di Civitanova Marche non è vero non è vero si che si dice Civitanova non è vero non è vero non è vero ma fra no no io prendo il gin non prendo il gin no se vuoi il ghiaccio si può spaccare il ghiaccio nel corso portagliaccio no perché perché la vodka eh sì ma faccio due di vodka comunque è stato famoso cioè una cosa incredibile cioè noi siamo noi siamo due va beh grazie poi è diventata ingestibile la situazione eh ma si ma poi non sai cosa ha fatto la polizia è arrivata no il gin ma va è arrivata e fa va bene va bene vi scortiamo noi ma che fai perché usciamo dal ristorante e ci fa ciao ragazzi alla prossima la polizia e ci ha messo in mezzo alla gente e una che è spaccata si è fatta si è messa 5 punti è fake dici e e un altro ieri abbiamo spaccato non ho svaleggiato casa ora tocca a Fedez non ho svaleggiato casa che fa l'occhiolino faccina che fa l'occhiolino faccina che fa l'occhiolino faccina che fa l'occhiolino faccina che fa l'occhiolino no te la fumo grazie Jan Come grazie Ernesto stava benissimo volete della musica avete preferenze di musica Taylor Swift Taylor Swift ho messo Taylor Swift Cash a Tik Tok e l'ultima Demit perché anche io Diego posso Diego ma realisticamente quando vieni in radio vederti ti dici grazie a te Diego Fede Zumenti in masca Fede Zumenti in masca Fede Zumenti in masca Fede Zumenti in masca voi quando partite io vado 19 vado al Puglia che c'è il battiti live in piazza dal vino io ieri sono stato all'all fashion hanno riaperto le discoteche ed era una merda cioè era in pista c'erano i tavoli no ma è bruttissimo è stranissimo perché nessuno non siamo più nessuno è abituato più ad andare in discoteca ed era una presa male mi dai l'accentino di E ma il massimo ha fatto no sta a crollare per il Diego grazie Paresci con Skywalk bella like dici c'è il signor Paresci Skywalk è vero che Fede ci ha fatto un tri triseme con le sorelle Ferragni basta grazie un triseme un po' cringe queste sono azioni vabbè io io mi sa che spengo la live allora io vi voglio dire una cosa ragazzi Fede si abbassa la cazzo di musica comunque ho mille ruine chi è in cassa è casereggia grazie allora ragazzi noi ci vediamo lunedì che preparo il viaggio con per la Sardegna mercoledì martedì c'è il complanno di Diego Diego riporta il flash mob martedì mi arrestano eh voglio fare il compito a mezzanotte martedì e dico tutti i due anni troviamoci qui è un'idea di Diego è un'idea di Diego è un'idea di Diego mercoledì partiamo ragazzi mercoledì partiamo mercoledì partiamo panetti ma tenere rendi conto che ieri con quella maglia dell'Australiana sembravi un gayer oh hard core will never die martedì partiamo mercoledì partiamo Simone viene in aereo perché vuole provare ad andare in aereo per la prima volta ma scusa quei soldi che ti sei fatto di Twitch fai col privato tutti col privato quanto costa 15.000 euro bene guarda se vuoi andare al risparmio rischiando la vita trovi di meno andiamo mettiamo tutti i 1.000 euro ma metti l'idea io vuole ne faccio metti l'idea io ho contattato per gli aerei privati lo sai che costa più uno yacht privato che c'è di aereo c'è aereo e aereo però anzi no posso dire ma dove la metto la macchina per l'ecologia meglio di no io ho fatto il viaggio siccome ho paura degli aerei ho fatto il viaggio in treno con Greta Thunberg ma si è vero con Greta Thunberg ma veramente si ho fatto francoforte Milano con Greta Thunberg che non la conoscevo pensavo fosse una youtuber ma vi rendete conto che il giulare è stato in live solo un'ora ma appoggia la telecamera dai ma che scheme eh ma non ci pensi ai modificati ma voi non ci pensate a me ragazzi che è da San Valentino che sto tutti i giorni in live e quindi da San Valentino con scopi prima di Leone era più aperto non c'era prima era aperto e vedevi tutto ma vi paparazzava c'è una casa di là che ha messo in affitto che ha una lista che è da stare perché è tutta la ricorsa è tutto a vetrate alte e vede anche qui le vede le montagne però c'è via i propri vetri e i corsi così ma ho visto che stanno facendo un altro grattacielo in Galenti non so basta un costruente ma non è per posto ma è un castiglio per un cazzo questi non vedono crisi ma questi sono no arabi no sono loro gli italiani generali se volete fare un ADV sono qua cos'è l'espressione qui questa espressione da ADV come anche Luis l'ha fatto e avete presente quelle che dicono soprattutto sono le ragazze che fanno me l'avete chiesto tantissimi vedi che sono tutti quanti dove prendo queste cose o anche scusate se da un po' che non faccio stories si si l'avete chiesto in tantissimi che poi fanno sempre queste cuffie tipo airpods tipo guardate hanno solo belle recensioni e poi le recensioni sono fatte da loro stessi vabbè non mi interessa questo è l'onestate euro si 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 vabbè sarete tutti arrabbiati che scusa è è il tuo lavoro è normale che stai in live tutti i giorni tranne quelli di riposo tutte le persone lavorano tutti i giorni omi stasera deludente ci siamo rimasti ma è il mio lavoro da libero professionista omi te lo stiamo chiedendo in tantissimi dove compri la droga la rimetto fedez mi sarei aspettato un bicchiere di champagne 919.293.949 porco di uo omi te lo stiamo chiedendo in tantissimi dove compri la droga omi te lo stiamo chiedendo in tantissimi dove compri la ok ok ehm ci vediamo domani aspetta che voglio vedere aspetta metti il muto metto il muto? no voglio vedere ah ok ok occhio a quel bicchiere che se lo fai cadere ti portano via a casa Barbara Marocco la tua paypal il tuo costume H24 barra 365 ti mandano il recupero fondi a casa se lo fai cadere vabbè 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 dai ragazzi eh si si non c'è nessuno no 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 ma ora lo sai cosa da quando inizio ad astremare la gente non non mi saluta più c'è? ah oh omi oh modificati ciao vabbè ciao modificati ciao belli ci vediamo per i preparativi della Sardegna e o domani mi andrò a fare controllare lo sterno e così avrò una risposta a questi dolori che cosa che hai? che ti ha avuto la bottiglia al centro? ora vi dico buonanotte e un piccolo spam di Omiscam vai salutate ragazzi grazie per essere stati in live ciao ci vediamo prossimo weekend ciao belli buonanotte ciao ciao